salve a tutti bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo caso se stai usando la tua connessione wifi e vorresti così passare al cavo ethernet che è molto meglio della wifi scarichi anche molto più velocemente i download senza avere problemi di connessione disconnetterti proprio dalle partite quindi nessun problema con il cavo ethernet quindi in questo caso prima di passare al cavo ethernet assicurati di aggiornare installare così i driver per il tuo cavo perché senza quelli l'ethernet non funziona quindi in questo caso vai direttamente sul system information come puoi vedere scende fino a giù fino a trovare così il prodotto scheda di base e questa qua è la tua scheda madre questa è la mia b450 gaming plus max ovviamente vai così a cercare questa scheda madre come puoi vedere questi qua sono i cavi ethernet quindi vorresti usare questo qua questi invece sono i centri di assistenza di download del supporto dell'asus gigabyte le messai della b 550 a tomahawk questa qua e poi c'è la mia b450 gaming plus max ovviamente vai a scrivere su qualsiasi browser la tua scheda madre e ti porterà così su uno di questi siti qua poi ovviamente vado direttamente sul supporto vado su drivers e download vado su driver ed eccoli qua ed ecco lan drivers per cominciare a usare il cavo ethernet quindi in questo caso la data di rilascio è del 2 luglio 2024 mi sembra al contrario qua in inglese al contrario o è il 7 di febbraio il 2 di luglio realtek p6 ethernet driver se vado direttamente sul tasto destro su start qua sopra gestione dispositivi schede di rete ed eccola qua realtek p6 io avevo già installato così questo driver per la mia per il mio cavo ethernet per utilizzare così la connessione con il cavo ed eccola qua puoi anche configurarla questo tipo per esempio se hai una buona scheda madre potresti anche impostare una frequenza molto più alta per avere problemi di connessione e diminuire il ping nelle partite quando giochi quindi va scaricato così il driver e va anche installato la stessa cosa vale anche per le altre schede matri quindi per esempio sul supporto su driver ed eccole qua land drivers anche su gigabyte stessa cosa supporto prodotti e si va a cercare la propria scheda matri qua su oppure andare su il centro di download quindi se vuoi usare dove cominciare a usare il cavo ethernet ti consiglio di installare aggiornare i driver per la tua il tuo cavo ethernet per il tuo land drivers e hai fatto e smettere di usare così la scheda di rete wifi e basta ovviamente se hai anche il bluetooth sulla scheda di rete tienila attiva che è meglio se in questo caso non si attiva tasto destro su impostazioni rete internet qua sopra impostazione di rete avanzate ed eccolo qua questo qua è il mio ethernet se qua c'è scritto abilità abiti così il cavo altre opzioni scheda per fare la modifica per migliorarla ancora di più sul protocollo internet versione 4 tcp e lo tengo sotto in indirizzo server dns automaticamente se invece vuoi usare altri dns utilizza i seguenti diritti server dns quindi in questo caso va scaricato il driver ti uscirà il pacchetto rar entri nel pacchetto rar e questa è la cartella setup scarichi installi ovviamente va estratto il pacchetto rar quindi winrar estra i file realtech e il setup ed eccolo qua scarichi installi tutti questi driver oppure potresti anche usare un'altra applicazione tipo per esempio si chiama l'applicazione driver easy che è anche un procedimento complicato per chi vuole usare la versione gratuita sempre in descrizione c'è il sito ufficiale per scaricare la versione gratuita e poi ci sono le altre versioni a pagamento aggiorna ovviamente devo trovare il realtech si aggiunga realtech questo qua il mio cavo ethernet che è aggiornato quindi per farti un piccolo esempio la versione gratuita ci metterà un bel po a scaricare così i driver quindi per farti un piccolo esempio di 13 kilobyte vado direttamente su aggiorna creo manualmente così un aggiornamento faccio continua installa manualmente faccio continuo ovviamente ti uscirà così una cartella una semplice cartella con dei driver dentro copi così il percorso file ovviamente come ho detto questo è un procedimento complicato quindi ti consiglio di andare sulla tua scheda madre sul supporto e scarichi installi il tuo driver quindi come dicevo copi così il percorso file fai la copia tasto destro sopra su start gestione dispositivi vai così sulla tua scheda di rete del cavo ethernet aggiornato ai cerchi driver nel computer e lo inserisci qua il percorso file per farti un piccolo esempio di questo driver qua quindi è molto comodo anche installarli manualmente tipo lo fai tu stesso scarichi prendi così il percorso file di questa cartella e la inserisci qua uno di questi driver qua per scaricare installare e aggiornare i driver del tuo computer quindi per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video se questo video ti è stato utilissimo su come installare e aggiornare i driver del tuo cavo LAN perché se vai a inserire il cavo LAN poi alla fine non ti esce come è uscito a me qua sotto quindi significa che c'è un problema quindi vanno aggiornati i driver del cavo LAN tutto qua quindi grazie a tutti per questa visione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao 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 ciao